Radio Flash e Livorno Magazine.it presentano Innamorarsi di Livorno Le origini segrete della città ideale di Maurizio Silvestri tratto dal libro I Medici, origini esoteriche e misteri di Livorno Una città pensata, inventata nel nome della libertà e della tolleranza, concetti ancora molto lontani dall'affermarsi nell'Europa di fine Cinquecento. Racchiusa in un pentagono orientato verso il sacro santuario di Montenero, protetta fra le sue mura da chiese a forma ottagonale, otto simbolo esoterico dell'infinito e anche da una Madonna nera, immagine di Iside e adorata dai cavalieri templari come Maria Maddalena, presunta moglie di Gesù Cristo. Ed ancora un simbolo della città, Ferdinando dei Quattro Mori, che indossa un corpetto con la croce patente dei templari, che era stata adottata dai cavalieri di Santo Stefano. Chi pensa dunque che Livorno sia o sia stata una città di atei e miscredenti, si sbaglia di grosso. Perché forse nessuna città è più mistica ed esoterica di quella fondata, come dice la leggenda, da labrone, ma voluta fermamente dai medici. I granduchi hanno creato praticamente dal nulla Livorno perché volevano dare un esempio di quella che per loro era la città ideale. Una città dove appunto tutti potessero vivere in libertà, dove il principio della tolleranza vigesse sovrano. Livorno è stato il punto di arrivo di chi cercava di liberarsi dalle pastoie medievali imposte dalla cultura imperante dominata dalla Chiesa di Roma, nel nome di un mondo nuovo, di idee maturate nei circoli segreti della Firenze di Francesco I e Ferdinando. I due hanno lasciato per sempre tracce che un attento osservatore riscontra anche oggi, a cominciare dalla pianta pentagono della città, il simbolo antichissimo adottato dagli egizi e quindi dagli ebrei. Il famoso sigillo di Salomone, dai mille significati, fra i quali l'unione dell'uomo e della donna, del principio maschile e femminile. Questo è il pentagono del buon talenti, architetto del grande amico di Francesco. Anche i mori del monumento hanno un loro significato. Sono quattro come i punti cardinali e i continenti conosciuti all'epoca della realizzazione. Livorno città ideale, la città del futuro che i medici con Cosimo e i figli, Francesco ma soprattutto Ferdinando, vogliono fermamente per il loro interesse e della casata a cui appartengono e per Firenze. Ma garantendo pace e prosperità a migliaia e migliaia di individui, spesso privi di futuro nel resto del mondo, che proprio a Livorno avranno la possibilità di farsi o rifarsi una vita nel nome della libertà e della tolleranza. Potete riascoltare questa puntata in on demand su www.livornomagazine.it e nella sezione FlashTube di www.radioflash.info